Dio Padre ricco di misericordia è un'espressione che noi ripetiamo continuamente perché è molto bella e efficace e che è ricca di significato. E quale potrebbe essere il significato vero, autentico, Dio buono, ricco di misericordia? Cioè è l'amore, misericordia è l'espressione dell'amore e quindi ama le persone giuste, i sofferenti, gli oppressi. Però non fermiamoci qui. Dio ama anche i peccatori, anche coloro che sbagliano, anche i bestemmiatori, gli stessi crocifissori del suo figlio Gesù. Perché Dio è infinito nella sua misericordia. Egli è il padre dei poveri, dell'orfano, della vedova. A tal amore deve però corrispondere un amore filiale, gioioso, fraterno. Cioè azione di Dio, azione dell'uomo. Se interrompe, non possiamo dire che interrompe l'azione di Dio, ma se si interrompe l'azione dell'uomo è chiaro che sulla terra non vige, non risalta l'amore di Dio e l'amore della fratellanza. E' un'esperienza di vita. Da un testo dell'Avvenire del 99, sfogliando le mie carte, ho trovato questa esperienza di vita. Il figlio mette a morte i suoi genitori. Un efferato intervento crudele di un figlio quattordicenne. Al giudice che domanda, ma perché hai fatto questo? Il ragazzotto risponde, perché li odiavo. Odiavo mio padre, odiavo in modo particolare mia madre, perché mi ha sempre rimproverato, mi ha sempre menato, non mi ha dato mai un sorriso. Tutte e due sempre preoccupate del lavoro è non teme. E io sono cresciuto come una belva feroce. Terribile questa espressione di questo ragazzo. Allora, amore di Dio, ma deve rispondere anche all'azione dell'uomo, altrimenti l'azione di Dio è fallimentare. Non per colpa sua, ma per colpa degli uomini. Quali sono allora le motivazioni della crisi tra giovani e genitori? Mancanza di amore, mancanza di fede, mancanza di valori, forse un po' di tutto. Il parroco commentando questo episodio dice che non li ho mai visti in chiesa. Cioè, il ragazzo con la sua compagnia di delinquenti mai messo piedi in chiesa. Forse avranno fatto anche la crisi, ma subito dopo sono spariti dalla chiesa. E' anche agghiacciante quello che riferisce la nonna di 88 anni, piangendo. E dopo aver pianto sulle salme dei suoi intimi, piange sul figlio prediletto suo. Lo vuol rivedere, lo aveva cresciuto sulle sue ginocchia e forse lo aveva viziato. Qui è il problema. Padre Pio va sempre in cerca del volto del Signore. La sua sana rassegnazione impostato sul santo ufficio, quanto viene privato della libertà. Ecco, Padre Pio non si ribella, ma si rassegna alla volontà del Signore. E affronta l'isolamento di due anni, praticamente, isolato da tutti. E sono due anni che non vede persone, non avvicina nessuno. Rimane chiuso nel convento a tu per tu con Dio e Gesù e Maria. Grazie a tutti.